Il comune di Cadoneghe dichiara guerra lo smog con un piano in 13 punti, ma tra questi non c'è il blocco delle auto più inquinanti come avviene a Padova e in altri comuni. Presi i dati dell'Arpav, insomma, il sindaco ha visto che il PM10 derivante dalle auto è il 12% del totale e ha deciso di puntare sul restante 88%, ovvero quello prodotto da caldaie, polveri sulle strade, amianto, plastiche ed incentivare le auto elettriche, provvedimenti che verranno estesi a tutti i 12 mesi dell'anno e non solo il periodo invernale. Il blocco delle auto è una sciocchezza, una bagianata di alcuni amministratori che piace agitare le bagnerine verdi o mettere le panchine verdi per dire abbiamo fatto qualcosa. È vero, c'è un oggettivo problema di inquinamento, ma non è bloccando le auto, non è mettendo peraltro in difficoltà chi ha di meno, i più poveri, chi ha le auto Euro 0, Euro 1, Euro 2. Non è là che noi andiamo a risolvere l'inquinamento. Cadoneghe ha anche interpellato l'ACI per capire quanti veicoli sarebbero interessati dal blocco delle auto Euro 0 e Euro 1. Su 11.000 veicoli di parco circolante poco più di 700 sarebbero soggetti all'ordinanza. Cioè vuol dire che noi con il 6,7% dei veicoli che teniamo fermi nei nostri garage abbiamo risolto il problema dell'inquinamento di Cadoneghe della provincia di Padova. Non ci crede nessuno. E allora via alla migliore efficienza delle caldaie. A una temperatura più bassa in casa, alla consulenza gratuita. A chi si rivolgerà agli uffici comunali verrà inviato a casa un tecnico che sarà pagato dall'amministrazione per verificare la caldaie e consigliare provvedimenti o incentivi per ridurre l'inquinamento. L'ordinanza sulle caldaie dove noi andremo a limitare l'accensione e l'inizio di attività delle caldaie. Abbiamo un'attività di controllo, prevenzione e di informazione rispetto ai nostri concittadini. I consulenti, i nostri tecnici arriveranno a casa in forma del tutto gratuita. Inoltre via al divieto per i mezzi privati e pubblici, autobus compresi, di tenere accesi i motori durante le soste e nei parcheggi e non solo d'inverno ma per tutto l'anno.